benvenuti su mio canale allora oggi nuovo video scusate ok oggi nuovo video dove farò vedere le mie cover per il mio cellulare che è il huawei p8 lite vi ritengo tutte dentro questa scatolina qua questa qui semplicissima delle scarpe e qui dentro tutte le mie cover vedete non ne ho tantissime dieci tutto compresa quella lì del telefono che adesso ovviamente elevato che registrando col telefono che l'ho levata che l'ho messa qua che l'ultima arrivata che poi alla fine ora faccio vedere io cento di esso 9 perché una è doppia prove ordinato doppia perché le prendo su ebay tramite ragazzo mio che lui c'ha la carta proprio con la paypal praticamente e non va a prendere una cover invece di cliccare su uno ho cliccato su due vabbè ce lo doppio meglio così almeno tante volte mi so che se rompe quella cover lì prendo il doppione insomma e non ne ho tantissime vi ripeto però comunque il video volevo fare lo stesso che volevo aspettare quando arrivato tipo una ventina dei cover così però dico dai tanto faccio il video di questi di questi dieci cover che ho e amen cioè vedi dopo quella comunque mano a mano che mi arriverà un'altra cover comunque ve la farò vedere insieme quando farò un video ovviamente ve la farò vedere quando farò un video vi farò vedere la cover nuova coprido niente io adesso vi lascio alle cover e ci vediamo qua allora adesso vi faccio vedere tutte le mie cover scusate per le unghie ma devo mettere lo smalto allora adesso le tiro tutte fuori dalla scatolina vi faccio vedere le cover un attimino allora questo che questa è l'ultima la faccio vedere dopo allora la prima cover che vi faccio vedere è questa qui che ho fatto io tutta zebrata io ho comprato questa custodia praticamente bianca nella vita che ce l'ho pezzetto ormai che era tutta bianca messi come tutta bianca così semplice non c'era niente ho deciso con pare che questo l'ho fatto con lo smalto sì che dopo ci ho messo il lucido trasparente di smalto vedete infatti è lucido ancora dopo tanto tempo che l'ho fatta infatti qua vedete mi si è tutta rovinata e ho fatto questo motivo qua questo animaliere insomma zebrato che mi piace veramente molto e questa qui è la prima poi non vi vado a fila della prima che ho acquistato all'ulta seconda terza quarta che non mi ricordo poi ho preso questa qui molto bella questa è quella dura però qua mi si è spaccata sia qui che qua ma comunque l'adopero lo stesso molto bella questo a chiappa sogni mi piace veramente tanto poi semplice bianca e il motivo mi piace veramente tanto proprio con questo effetto water color con po' dei colori così fatti insomma molto molto carina mi piace veramente tanto poi la terza cover che vi faccio vedere questa qui fighissima questa poi è morbida infatti sono appassionata delle cover quelle morbide perché sono molto più comode che è praticamente a forma di smalto nel polish 112 fire vedete qui c'è il tappo nero dello smalto e qua il colore dello smalto come vedete tipo la boccetta no dell'omalto molto molto carina c'era anche varie vari colori insomma eccetera però mi piaceva più un rosso classico insomma diciamo dietro ovviamente sempre bianca è questa qua questa qui è la terza cover poi quest'altra pure sempre morbida bellissima con questo orsettino qua questo è l'orsetto polare il cucciolo di orsetto polare sono molto belle mi piacciono veramente tanto e questa pure infatti un pezzetto che ce l'ho vedete qua un po' sta cominciando a rovinare anche qui vedete se vede il colore della pelle mia del dito sta cominciando vedete a rovinare un po' ma comunque anche perché tanto che ce le ho quindi ne dopo tantissimo faccio un po' una po' un'altra le cambio quindi le dopo veramente tanto molto carino cuccioloso tutto puccioso questo orso polare cucciolo poi questa qui fortissima a forma di fotocamera c'è bellissima proprio dietro è sempre bianca ma sempre morbida e infatti per questo un po' me si sta rovinando però come ho ripetuto prima le dopo veramente tanto è molto carina questa che veramente fai così pare veramente se vedete pare veramente guarda la metto qua che con lo sfondo bianco pare veramente una fotocamera lasciando aperti spazi che sono rovinati pare veramente la fotocamera mi è piaciuto tanto che è molto strana e bella bella mi piace poi vi passo la parte dove ho quattro cover che praticamente sono tutti animali diciamo e che come sapete sono animalista mi piacciono molti animali e ok i prossimi acquisti di cover che farò saranno su tipo floreali ste robe qua che tanto animali un po' ce l'ho allora questa qui sempre morbida un po' più dura di quell'altra morbide questo leone qua c'è bellissimo poi come fate come stampate questa vedete non è rovinata perché comunque l'usata un po' di meno e anche perché comunque è nuova quindi questa c'è veramente veramente bella con questo leone qua cioè ma pare proprio vero proprio stampati bene cioè come sono fatte le cover la stampa diciamo e pare proprio vero e mi piace tanto bellissima qui dietro è semplice e morbida anche questa come ho detto prima è bello il leone poi questa qui è stupendissima che questa ce l'avevo prima che mettessi l'ultima cover che ho preso la tigre sibiriana infatti vedete c'è la neve guardate quanto è pucciosa quanto è bella è bella tanto mi piace veramente tantissimo stupenda questa cover questa ovviamente pure questa morbidosa e questa poi l'ho doperata però questa si vede che tiene un po' di più come come cover come tessuto come l'ane fatta perché questa veramente pure l'ho doperata tanto infatti vedete qui solo solo qua sono comunque buone condizioni c'è bellissima una tigre questa è stupenda è una delle mie preferite poi ho questa qui un'altra tigre questa sempre in versione morbida le cover c'è stupenderima pure questa sempre tigre sibiriana ma bianca c'è guardate l'occhio questo verde bianco c'è quasi smeraldo c'è stupenda proprio pare vera anche questa questa tipo come questa qua praticamente che ha lo stesso effetto diciamo che pare vero c'è questa pure l'ho doperata tantissimo e questa non mi si è rovinata più niente c'è proprio stupenda poi arriviamo alla penultima cover che sarebbe questa questa è dura però che è il lupo ovviamente che prevate che me lo facevo scappare lupo no ovviamente il lupo che infatti vedete ho anche il tatuaggio qui che è il mio animale preferito oltre la tigre e il cavallo vabbè che sono i miei tre animali preferiti ma lui è il primo proprio a parte tutti in genere gli animali come sapete sono animalista mi piacciono tutti e quindi ok sì non ho tante cover un po' strane così perché comunque ho visto questi quegli animali io subito vum adesso mi deve arrivare che l'ho presa su wish una cover stupendissima con gatto gigante cioè dopo ve la farò vedere quando sarà che adesso voglio comprare quelle un po' più strane questi qui tanto gli animali un po' l'ho presi io voglio comprare ripeto quelli con i fiori quelli con i pupazzetti insomma tanti cazzi ammazzi diciamo mi piace quindi vorrei provare con altri tipi di cover questa qui dietro è bianca c'è bellissima questo qui il doppione che vi dicevo vedete questa qui è nuova guardate già è imballata ancora è uguale perché ci siamo sbagliati infatti questa non l'apro la tengo qua custodita teneramente qui dentro meno tante volte questa non so se spaccano se si rompe la butto via e userò questa qui e questo qui era il doppione che invece prende una abbiamo cliccato 2 e pazienza comunque ok queste è l'ultima cover che vi farò che vi faccio vedere questa è la mia preferita proprio in assoluto tatan sailor moon chi di voi infatti ha visto anche su instagram facebook però non ho fatto il video che ho fatto tutte le mie sailor sulle tip e questa e di queste comunque sue bai ce ne stanno non so se l'ho preso bai su wish oddio non mi ricordo ragazzi va bene comunque o su bai su wish di sailor moon delle sailor ce ne sono tutte c'è la sailor mars era jupiter 0 venus ci sono tutte infatti le voglio prendere tutte la prima è stata sailor moon ovviamente c'è questa è nuova mi è arrivata c'è me l'ho portata roberto sabato quindi è nuovissima infatti adesso io nel cellulare o questa c'è con testo penda guardate bellissima tanto bianca qua c'è un po di rosa come vedete con dei pallini bianchi tipo le ali no no stupendissima questa pure bianca e niente e questa qui e dopo me prenderò ovviamente tutte le altre sailor perché vorrei fare la collezione proprio delle sailor perché mi piacciono veramente tanto è stato il mio cartone preferito fin da piccola quindi non le lascerò mai sempre nel mio cuore sono sailor moon e tutte le altre e quindi volevo prendere proprio apposta tutte le altre cover della delle altre sailor e niente queste qui sono state le mie cover scusatemi se sono poche ma che devo fare comunque vi ripeto mano a mano conquisterò altre poi ve le farò vedere quando farò ovviamente un video anche se mi compro roba di trucchi e di smalto e cazzi a mazzi comunque invece metterò dentro anche le cover se l'ho prese o meno insomma ve le farò vedere lì su quel video o lì dipendentemente che video faccio comunque ve le faccio vedere niente io spero che questo video e le mie cover vi siano piaciute se è stato così spoliciato un pollice in su sotto nei commenti fatemi sapere la vostra cover preferita e questi 10 che vi ho fatto vedere io niente vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao